Ciao a tutti, buonasera! Allora, Instagram sta informando i miei follower che è iniziata la diretta e già qualcuno sta entrando. Buonasera ragazze, come state? Benvenute! Sono contenta che abbiate risposto a questo invito e probabilmente riuscirò anche a registrarla perché sto usando il mio cellulare vecchio per registrare questa diretta. In primis perché mi fa vedere nel lato giusto questo nuovo, non so per quale motivo, quando metto la modalità selfie per fare le dirette, mette tutto al contrario. Invece così mi vedete, vedete la stanza esattamente com'è. E soprattutto questo cellulare vecchio mi permette di scaricare nel cellulare tutta la diretta in modo tale che potrò riutilizzarla per metterla come video su Instagram perché mi è stato richiesto. Intanto saluto tutte quante, Loretta, Nati che stanno entrando eccetera eccetera, Lauretta mia, ciao Laura, Stefania e tutte quante. Voi salutate tranquille, vi guardo tutte, non pensate che mi dimentico di voi o non vi saluto. E' che cerco di andare un pochino veloce perché un'ora sembra tanta, in realtà è pochissima e devo rispondere a un casino di domande. In più c'è necessità pure di fare un video carino per chi lo guarderà su YouTube senza che mi metto a elencare tutti quanti i nomi delle ragazze che stanno entrando. Ciao Loredana, punto per questo. Allora siete già in venti, perfetto. Io direi di cominciare con le domande in maniera tale che se riesco a finirle per tempo avete modo di farne altre. Vi garantisco che molte domande erano doppioni per cui sicuramente rispondendo a una accontenterò pure qualcun'altra. Le tematiche erano quelle di organizzazione, minimalismo, self care e poi qualche domandina curiosa perché di solito siete anche curiose su qualcos'altro. Allora cominciamo con la parte armadio perché tutto è partito da domenica quando ho fatto il cambio dell'armadio. Ci sono domande relative agli outfit, relative proprio all'ordine. Ciao Serena, benvenuta. Ciao tesoro. Allora, prima domanda, come posso abbinare il blazer? Poi mi è stato chiesto nella terza domanda quale outfit consigli elegante con la giacca blazer? E ancora mi è venuta una domanda che diceva consigliami degli outfit eleganti ma non troppo. Quando si dice elegante ma non troppo a me viene in mente lo sporty chic. Credo di poter riunire tutte e tre queste domande dicendo tranquillamente che il blazer è un capo che può diventare molto molto professionale, oltre che abbastanza elegantino, ma può diventare anche sporty chic a seconda di come scegliamo di abbinarlo. Allora, il blazer normalmente può essere abbinato su tutto. Quando dico su tutto intendo dire che va bene il jeans, va bene un pantalone classico, va bene un pantalone palazzo, va bene un pantalone di taglio skinny, va benissimo la gonna professionale al ginocchio, va bene la longhette, va bene la gonna lunga e larga e anche quella a pieghe. Potete fare un po' come vi pare. Quindi abbinatelo come desiderate, ovviamente non metteteci magari la calza maglia o il leggin, queste cose qui, però tutti quelli che ho lancato fino adesso sono outfit possibili. Se si vuole avere un aspetto molto rigoroso, professionale, da ufficio, eccetera, si può mettere chiaramente la gonna a tubino, si può indossare un pantalone di taglio classico, anche con le pants volendo. Se invece si vuole renderlo un pochino più sporty chic, un pochino più abbordabile come taglio per tutti i giorni, sicuramente anche un bel jeans con una scarpa carina, con un tronchetto, uno stivaletto, eccetera, è abbinabile. Sotto potete indossare sia una camicia classica, quindi con il collettino tipico da camicia, sia una maglia girocollo semplicissima, una maglia basica, perché comunque l'effetto sarà sempre curato e professionale, anche quando lo renderete più sportivo. Quindi una donna che lavora, che ne so, mi viene in mente, un'agenzia normale in cui sta seduta la scrivania, bellissima, con la giacca blazer e con la camicia. Un'altra donna che invece vuole essere un pochino più friendly, bellissima la giacca blazer, con una maglietta bianca sotto, semplice, magari una bella collanina. Veramente è il capo più semplice da indossare in assoluto. Altra domanda, ciao Sabrina, un outfit si deve creare la sera prima? Dipende, dipende come state la mattina. Io per esempio la mattina, soprattutto quando dormo poche ore, non sono sempre molto in grado di intendere e di volere, per cui prepararmi la sera prima, soprattutto considerando a quello che devo fare il giorno dopo, mi rimane comodo, sia per una questione di tempistica, di pura tempistica, perché magari quei dieci minuti che perdo a osservare con lo sguardo vacuo il mio armadio, preferisco investirli per fare una colazione come si deve, anziché poi prendere una merendina e scappare via. Quindi il mio consiglio è createlo la sera prima, perché siete sicuramente più lucide, perché la scelta degli accessori sarà più curata, e perché, non lo so, vi fa risparmiare tempo, questo è il discorso. Quindi agenda alla mano, io con l'agenda pianifico la sera prima, quello che devo fare il giorno dopo, ce l'ho tutto scritto lì, se devo andare in ospedale a passare sei ore per una visita medica, sicuramente mi veste in un modo, se so che devo avere due sessioni in esterna a incontrare i miei coccini, sicuramente mi veste in un altro. Questo è il discorso, quindi pensateci la sera prima, se possibile. Poi, altra domanda, puoi fare un video per come fare bene una skin care? Allora, il tema skin care è stato un tema ricorrente in queste domande, almeno due o tre persone mi hanno chiesto una skin care essenziale, una skin care tipo capsula per chi non vuole spendere molto, e per essere anche minimaliste. Io sono molto minimalista nella mia skin care, sono anche abbastanza essenziale, quindi anche economica, quindi vi posso dire sicuramente che lo scopo di una accurata skin care è quello di detergere per la sera e preparare la pelle al nutrimento notturno e per la mattina è prepararsi al make up, è molto semplice. Quindi la mattina la pelle ha bisogno di preparazione al trucco, al make up e di protezione dagli agenti atmosferici esterni e quindi anche dall'inquinamento, e soprattutto la pelle ha bisogno di idratazione. Poi dipende ovviamente dalle fasce d'età, però in linea di massima la skin care questo deve fare. Quindi la mattina io detergo il mio viso con acqua di rose, semplicemente perché sono come i gatti, la mattina l'acqua per me non è una cosa gradita, per cui non mi lavo il viso la mattina, neanche per svegliarmi. È una cosa che rappresenta un trauma, è così da quando ero ragazza le abitudini mie si sono sviluppate in modo diverso. Per cui la mattina cotone e acqua di rose, dopodiché crema contorno occhi, siero crema da giorno. Quando dico siero intendo dire un prodotto di rinforzo che va a penetrare negli strati un pochino più profondi dell'epidermide mi dà quella, come dire, quella protezione in più, quella idratazione in più e soprattutto prodotti intensivi come antirughe e come rassodanti vista l'età, ok? Poi crema idratante, dopodiché mi metto il make up sul viso, quindi comincio dal fondotinta, il correttore, un po' di cipria in polvere, terra o fard o blush, come si dice, tra le esperte e poi tutto il trucco degli occhi, ovviamente, le labbra, eccetera, eccetera. Questa è la skin care del mattino. La sera è molto importante fare una curata pulizia. Io, come sempre, ve l'ho già detto altre volte, uso il latte detergente, la cosa mi piace di più. Quindi cotone, latte detergente e, anziché il tonico, preferisco utilizzare la micellare. Così completo la pulizia in modo veramente accurato, visto che stratifico moltissimo il make up. Poi crema con tornocchi, siero e crema da notte su viso e collo. Quindi gli essenziali sono detergente, tonico o micellare per chi preferisce. Se usate un tonico lo potete utilizzare anche al mattino, a differenza dell'acqua di rose che uso io, per cui potete economizzare eventualmente. Una crema specifica per gli occhi e una crema 24 ore, se volete risparmiare, o specifica da giorno e da notte, che potrete applicare sia sul viso che sul collo e il décolleté. Questo è quanto io ho da dire sulla skin care. Andiamo avanti. Consigli di self care, invece. Quindi consigli per volersi un po' di bene. Allora, qui si apre qualcosa di immenso come scenario, perché chiaramente il self care comprende tantissime cose. Comprende in buona sostanza il volersi bene, per cui da lì è facile capire che si tratta di cura del viso e del corpo. Significa anche vestirsi nella maniera che ci fa sentire meglio. Significa però anche coccolarsi, quindi nutrirsi a livello sia alimentare che a livello emotivo e psicologico. Quindi ritagliarsi il giusto tempo per il relax. E quindi conoscere bene quali sono i propri bisogni, le proprie necessità anche di tipo emotivo. Quindi scegliere in modo oculato come passare il proprio tempo, con chi passarlo, cosa fare nel tempo libero. È tutta una questione di volersi bene. Quando si parla di self care, cioè di cura di sé, questo comprende tutto. Quindi comprende amarsi, volersi bene, coccolarsi, difendersi, ritagliarsi del tempo, scegliere quali compagnie frequentare. C'è di tutto dentro, ragazze. C'è la meditazione, c'è lo yoga, c'è l'esercizio fisico, c'è la preghiera per chi ama la preghiera. C'è veramente di tutto. Quando si parla di self care si apre un mondo. Quindi spero di aver fatto capire un po' le cose. Se volete qualcosa di più specifico, sedetevi, fate la ruota della vita che trovate su internet dove volete. Scrivete ruota della vita e scaricate un'immagine. Colorate la ruota della vita dando un voto da 1 a 10 ai diversi settori della vostra vita che sono, che ne so, il lavoro, le relazioni affettive, la salute, l'alimentazione, eccetera, eccetera. Potete anche aggiungere voci a piacimento. Quindi non siate schematiche, siate creative. E vedete qual è il bilancio della vostra vita. Cioè qual è la pagella, i voti che date a ogni sfera della vostra vita. Dall'in poi, quando il voto è basso da 6 in giù, capite bene che per voi self care significherà rimpolpare e ringalluzzire le parti che hanno avuto un voto più basso. Ovviamente questo potete deciderlo autonomamente se siete brave o rivolgervi a un coach se avete bisogno ovviamente di orientamento e di qualche calcio nel sedere e di un compagno di viaggio soprattutto che vi aiuti a fare questo percorso. Sempre parlando di guardaroba, borse e scarpe da avere. Allora, come mi diceva una di voi oggi che mi ha scritto dicendo ma non è soggettivo? Sì certo, il numero dei pezzi è soggettivo. Non è che ve lo dice Sabrina quanti pezzi dovete vedere nell'armadio. Però sicuramente volendo parlare di un guardaroba capsula perché molte me lo hanno chiesto, le borse e le scarpe da avere sono sicuramente delle cose basiche che potrete abbinare su qualunque tipo di outfit scegliete poi di avere o comunque qualunque numero di capi desiderate poi mettere nel vostro armadio. Sicuramente la scarpa nera è un basico, quindi una scarpa nera con il tacco per le occasioni in cui serve il tacco e bassa per le occasioni in cui serve una scarpa bassa che può essere una stringata, può essere un mocassino, può essere uno stivaletto tipo quello che indosso io oggi che ora vi faccio vedere soddisfacendo anche la richiesta di chi mi ha detto facci vedere le scarpe nuove che ti sei comprata. Questo è lo stivaletto basso, basico che per me è un passepartout che mettete un po' su tutto. Gli stivaletti di questo tipo sono anni che vanno di moda per cui penso non... Scusate vado avanti... Penso non ci sia bisogno di promuoverli più di tanto e questo ha preso il posto di un altro stivaletto quasi identico che avevo un pizzichino più a punta magari perché le mode cambiano, aveva anche il tacco leggermente più alto e un pochino riportato in dentro stile camperos e questo penso sia l'elogio proprio del basico ed è un tipo di stivaletto che sto indossando veramente con tutto, è carino anche con la conna lunga e larga, ok? Poi quale altra scarpa avere? Uno stivale, se vi piace lo stivale, se indossate magari i jeans dentro o i leggings dentro o non lo so, mi viene in mente un aspetto un pochino più da cavallerizza, se vi piace lo stivale che arriva al ginocchio va bene, con il tacco se siete delle, come dire, dei corazzieri come donne, se siete molto aggressive, basso se siete donne più sportive e più pratiche. Nero ovviamente se è il colore che credete vada su tutto quello che avete nell'armadio, c'è chi ama magari il color cognac, il marrone, il beige eccetera eccetera, quello dovete scegliere voi perché i capi che indossate voi sono la base su cui partire, ok? Per quello che riguarda la borsa, secondo me, che è quello su cui mi sto piano piano convertendo io, anziché comprare 20 borse tutti colori così per avere questa eccentricità di abbinare borse colorate a seconda dell'outfit, secondo me investire in una buonissima borsa di pelle vera di colore nero è avere la borsa della vita, cioè avere una borsa per tutto, a quel punto scegliete due modelli, una grande tipo city bag per la mattina, per andare a fare le vostre cose, per lavorare eccetera eccetera, che possa contenere più cose dentro e una piccolina magari per uscire la sera, che potete mettere a tracolla di traverso, magari portare a mano, quello dipende da voi, quindi le borse da avere sono più o meno queste, e tutto il resto chiaramente sono capi in più, borse in più, che potete utilizzare perché vi piace averne di più, perché vi stancate, perché l'abbinamento colore è qualcosa che preferite sia un pochino più ricco, ok? Skincare make-up essenziali ci siamo arrivati, quali capi basici per un guardaroba capsula? Anche qui è personale, però se proprio uno volesse andare sul guardaroba minimalista, sicuramente io direi un blazer nero, un pantalone nero di buon taglio, un jeans di buon taglio, possibilmente di un colore medio scuro o scuro, che sarebbe ancora meglio, una camicia bianca, per tutte le occasioni è valida, e una serie di magliette da cambiare, manica corta o lunga dipende dalla stagione, con una scollatura discreta che può essere un semplice girocollo, una leggera V o addirittura una barchetta dipende, considerando che sono i capi che più spesso cambierete, che quindi si laveranno, si stireranno, ora non si asciuga, ora non ho stirato, tre nere, tre bianche e vi levate il pezziero, una buona cintura nera di pelle, una borsa nera di pelle, una scarpa bassa, come ho detto prima, tipo mocassino oppure stringata, una scarpa col tacco per le occasioni, chi ama la gonna, una gonna stile, diciamo, tubino al ginocchio, non troppo scosciata, ginocchio o longette, io non le metterò mai, per cui per me la gonna significa gonna nera lunga e un pochino ampia, perché io ci metto lì anche il giubbino jeans volendo poi, quindi quella è anche un capo che potete utilizzare in modo diversificato. Un bel vestito nero semplice, tipo tubino o qualcosa di simile, per le occasioni in cui non so cosa mettermi per fare la seratina carina, quello è semplicissimo da abbinare, perché quello ci potete mettere sopra un blazer, ci potete mettere sopra un giacchino Chanel corto, ci potete mettere il maxi maglione, quello dipende cosa volete fare voi, il cardigan, eccetera. Un cardigan pure come capo basico ci può stare, o beige o nero. Organizzazione armadio, ecco, qui dipende ovviamente dalla quantità di capi che volete avere. Quando io ho preso il mio mega armadio, quando abitavo a Fiano Romano, ricordo che andai da Ikea, mi sedetti con il ragazzo, che stava lì al settore di creatività, alta ingegneria proprio, e dissi a questo ragazzo quali erano le mie esigenze. Quindi venne fuori un'anima di dieci ante d'armadio, super accessoriata all'interno, dove addirittura mettevo le scarpe, perché c'era in basso il coso estraibile con tutte le formine in cui infilare le scarpe, mai vista una cosa più scomoda in vita mia, è stata la prima cosa che nel tempo ho eliminato, e quella parte vuota ci ho messo le borse. Oggi ho eliminato, proprio domenica scorsa, Luciano mi ha staccato, la griglia, quella porta pantaloni, che non mi permetteva di avere uno sguardo su quelli che realmente possedevo, infatti ne ho comprati più del necessario, ce ne ho veramente tanti. Quindi eliminata anche quella, ristrutturato la parte degli scaffali, oggi vi potrei dire che potrei vivere tranquillamente in quattro ante. Ne ho cinque, ho troppe cose ancora, però molte le ho eliminate, penso che pian pianino diventerò ancora più minimalista. Quindi organizzazione armadio, sicuramente scaffali, dove riporre qualche maglione o delle magliette, o addirittura dei jeans piegati, come li piego io, che li piego in tre o in quattro parti, dipende. Un paio di cassetti, anche tre per la biancheria, perché vanno reggiseni, mutandine, calzini o calze, chi le utilizza. Un cassetto per i pigiami, poco d'altro, qualche stampello ovviamente per appendere i cappotti, le camice, che cos'altro poi? Le gonne, chiaramente un reparto per appendere gonne con le dute e vinsette. Io più di questo non farei, cioè tornassi indietro, farei tutto diverso, ve lo dico. Quindi smaltire l'enorme quantità di vestiti che io ho accumulato negli anni è stato faticoso, è tuttora faticoso. Da dove iniziare? Vabbè, non ha un senso perché non si capisce la domanda. Quanti blazer consigli di prendere? Allora, se volete un guardarobba capsula, basterebbe un blazer nero, eventualmente negli anni un altro blazer per cambiare colore, essere carina e voler fare qualcosina di diverso. Io per esempio ho un blazer nero, ho un blazer rosso, e credo di averne uno bianco per l'estate. Ciao Sabrina, jeans, come li posso abbinare per outfit eleganti? Credo di averne parlato prima, ho un problema, non so come destinare le cose che non uso più, tu come fai? A parte il regalare quantità di robe alle mie figlie o a qualche amica, ho anche delle amiche finanziatrici, quindi amiche che comprano i miei capi, perché sanno di trovarli praticamente seminuovi e sanno che i prezzi sono molto convenienti. In passato facevo video dove vendevo i capi, i famosi video svuoto all'armadio, che oggi francamente non mi sento più di fare. Oggi mi rivolgo al mercatino dell'usato, ci sono a Roma diverse filiali del mercatino, che proprio si chiama così, dove voi portate le vostre cose, sicuramente non guadagnate come la vendita che potete fare in modo diretto, guadagnate più o meno la metà, però non avete roba in giro, non dovete far pacchetti, non chiamate i corrieri, non avete rotture di persone che magari prendono, poi ti dicono che non gli va bene, cosa che a me non è mai capitata, grazie al cielo, però volendo sbolognarmeli, io mi trovo benissimo al mercatino, li lascio lì e poi quel che succede, succede. Quanto spazio hai per le tue cose? Intendo in metri, così per capire se sono io che non so regolarmi. Allora, i metri non lo so, comunque ho cinque ante d'armadio che misurano circa 40 centimetri, quindi siamo a due metri circa di armadio lineare, in più possiedo una piccola cassettiera di arte povera con sei cassetti per le cose intime, quindi calzini, calze, mutandine, reggiseni, mascherine, ultimamente che ci sono anche mascherie di stoffa, diverse cose messe lì insomma, quindi metri, mi pare un po' eccessivo parlare di metri, vedo armadi stratosferici, però sono persone che più o meno hanno fatto dell'armadio il loro scopo di vita, nel senso blogger, nel senso persone le quali scelgono di farsi mandare molte cose in omaggio, persone che ci lavorano sopra, quindi ci fanno i video, ci vivono con queste cose, per cui chiaramente hanno esigenze diverse, cosa a cui mi ero avviata io diversi anni fa, qualche anno fa, fino a qualche anno fa, e adesso non è più così, per cui per quello che è il mio stile di vita, direi che due metri di armadio lineare, sono quasi troppi, ok? Cosa ne pensi dell'armadio capsula? Ne penso tutto il bene del mondo, soprattutto perché è un sistema di creazione del proprio outfit, che ti permette di risparmiare tantissimo, di risparmiare anche in spazio, quindi per chi ha case piccole o armadi piccoli, è la soluzione ideale, ti permette di capire che la vestizione non è lo scopo della vita, ma è un modo per andare in giro carina e ben messe, e per mettere la, diciamo la maschera, come dire, non la maschera, gli abili di scena che ti serviranno per quel giorno, per fare il tuo lavoro, o per divertirti, perché per me outfit significa anche vestirmi per casa, quindi ultimamente ho comprato due pigiami nuovi, e una vestaglina pelusciosa, meravigliosa, che vorrò indossare nei giorni freddi, come momento di relax o per andare a dormire, ok? Profumi che consigli, ragazze, che vi posso consigliare? Io vi posso consigliare quelli che piacciono a me, ma sono di mio gusto, per la mia pelle, non è che posso consigliare profumi, posso mostrarvi quelli che ho, che non lo farò in questo momento, ovviamente, però che vi posso dire? Quelli che amo di più ultimamente sono Narciso Rodriguez, sempre quello rosa, qual è commesso oggi? Alien di Terry Mugler, vi parlo dei nomi originali, ma io trovo ottime imitazioni della Yodema, o addirittura da Zara, quando scopiazza qualche profumo, quindi questi sono, poi cos'altro, mi piace molto Donna Karan, lo trovo molto fresco, frizzante, classico, mi piace, basta, poi se potessi ne comprerei pure di diversi, ma al momento direi che sto bene così, minimalismo nella skin care viso, penso di avere una skin care molto minimale, e ve l'ho spiegata prima, ci fai vedere nuove scarpe acquistate, vi ho fatto vedere quella che sto indossando al piede, che è stato un acquisto replacement, quindi un acquisto che andava a sostituire, una pressoché identica, che ho buttato, perché avevo da 5-6 anni, vi faccio vedere l'anfibio che ho acquistato, da Queen Elena, che è questo negozio, e che è andato a sostituire l'altro anfibio, che avevo acquistato da un negozio, che si chiamava Angie, che adesso non c'è più nel luogo dove lo andavo a cercare, e ho preso questo anfibietto, con meno parti metalliche, però che ha un piccolo tacco, diciamo un piccolo plateau alto, ok, questo qui, che è andato a sostituire l'altro anfibio, che ho buttato, perché avevo comprato 4 anni fa, e oltre a essersi un po' sformato, perché ho camminato tanto con quell'anfibio, non mi piaceva più, si era un po' buchicchiato, si era rovinato, quindi vabbè, diciamo che mi piaceva il look che creavano queste due scarpe, quindi le ho sostituite, ricomprando le più o meno identiche, allora, poco spazio, borse bijou, questo penso sia il problema che denuncia questa amica, compra meno borse, gioia mia, cioè, io pure lamentavo una volta poco spazio per le borse, quando poi sono andata a contarle, ho visto che ne avevo 29, mi sono reso conto che il problema non era lo spazio, ma erano le borse, quindi nel tempo le ho vendute, qualcuna le ho regalate, altre le ho buttate, oggi ho 7-8 borse, non di più, quindi mi basta tranquillamente, una parte bassa dell'armadio, con un cassetto che esce, le infilo lì, di queste 8 borse, 4 sono di vera pelle, e sono contentissima, quindi pian pianino, man mano che si rovinano le borse plasticose, o comunque le borse da poco, che puoi comprare da Carpisa, o in una bancarella, o dovunque sia, preferisco magari aspettare un po', comprarmi la borsa carina, e magari darne via 3 o 4 di quelle meno carine, bijou, ah bijou ok, bijou io ho una specie di griglia, porta bijou con gli spuntoni, che puoi comprare ovunque, a volte sono anche dei portacravatte, quindi dipende, li puoi veramente comprare ovunque, l'ho fissata sul muro, dietro la porta della camera da letto, è una cosa fichissima, perché praticamente io, per prendere i miei gioielli, devo chiudere la porta, chiudendo la porta, mi ritrovo il muro, con tutti i gioielli attaccati, cioè le collane più che altro, perché poi questi qui, gli orecchini o gli anelli, ce li ho in una scatolina dentro l'armadio, quindi è una cosa tranquillissima, ne ho pochi pure di quelli, ecco perché non ho problemi, ma nel momento in cui sono davanti alle mie collane, per scegliere, dietro di me c'è il muro, con un piccolo specchio, dove posso appunto anche agghindarmi, prima di uscire, quindi è molto comodo il sistema, collane davanti, specchio dietro, porta in mezzo, ok? Abbigliamento minimal, per una giovanile 50 anni e più, con l'occhiolino, ecchi me so pure io, sono qui, e abbigliamento minimal, guarda, andrei tranquillamente sul guardaroba capsule, di cui ho parlato prima, quindi pantalone nero, di un taglio che ti sta bene, non so che fisicità hai, io momentaneamente sono un po' sovrappeso, quindi fianchi abbondanti, pantalone nero, anche skinny, che puoi coprire tranquillamente, con un blazer lungo, o un cardigan lungo, aperto, magliette, come se piovesse, guarda, io amo molto le scollature a barca, perché trovo di avere ancora un buon decoltè, anche delle belle spalle, per cui mi diverto così, oppure con il dolce vita, quando comincio a fare più fresco, ne ho due bianchi, due neri, uno blu, e uno bordeaux, e uno rosa, quindi ho la bellezza di sette dolce vita, per l'inverno, ai quali metto sopra, o il blazer, o il cardigan aperto, e questo per me è un outfit, che girando un po' con i colori, mi risolve un sacco di situazioni, cioè io per una settimana, posso vivere tranquillamente, di dolce vita, di vari colori, pantalone nero, pantalone jeans, se ce l'hai bello scuro, di buon taglio, uno stivaletto, o scarpa classica, di cui ho parlato prima, boh, cos'altro, cioè un bel cappotto nero, o cammello di buon taglio, sei vestita, sei una bellissima cinquantenne, molto smart, senza voler sembrare, eccessivamente giovanile, e senza invecchiare in capi, che intristiscono, e che a cinquant'anni, per le cinquant'anni che oggi siamo, abbastanza giovanili, non è proprio cosa, ok? Poi, come rendere funzionale un armadio? Penso di averlo spiegato un po' prima, mi piace molto piegare, io appendo soltanto le camice, e le giacche, e poi le gonne, chiaramente con le pinzine, il resto per me si piega tutto, quindi maglioni piegati, magliette piegate, pantaloni jeans piegati, pantaloni skinny piegati, anche di altri colori, quindi più funzionale di così si muore. Qual è la tua stagione preferita, che outfit ti piace di più? Allora, detesto l'estate, la detesto proprio abbondantemente, più dell'inverno, anche perché non ci si sa vestire in estate, perché, cioè, ci si agghinda tanto per coprire, a mo' di foglia di fico, le nudità, perché è insopportabile, mi piace molto la primavera, mi piace molto l'autunno, quindi le stagioni di mezzo, in primis, perché l'inverno ti costringe, a infagottarti, e quindi non è mai un outfit gradevole da vedere, le stagioni di mezzo, ti permettono, chiaramente, maglie e abiti comunque sottili, e poi ti permette di stratificare la stagione di mezzo, per cui anche il foulard, che è un accessorio, diventa opzionale, non è più l'obbligo di mettere lo sciarpone di lana, o il cappottone peluscioso, capito? Mi piace, non patire freddo e caldo quando vesto, quindi se il cappotto lo voglio lasciare aperto, perché sotto ho una mise che mi piace mostrare, è la stagione di mezzo che mi permette di farlo, e non le altre. Allora, vorrei lasciare andare senza sensi di colpa, quello che non mi serve, o che non, puntini puntini, perché poi Instagram permette di mettere 5 parole, non di più, i sensi di colpa, per favore lasciateli a casa, a meno che non abbiate ucciso qualcuno, insomma, sensi di colpa, lì c'è da fare un lavoro d'altro tipo, per cui forse ti serve un percorso, che può essere di coaching, può essere di counseling, può essere di psicoterapia, a seconda dell'entità delle tue difficoltà, ok? Quindi, se ti serve il coaching, io sono qui. Sono molto disordinata, aiuto. Allora, il disordine va abolito, perché fa vivere male, fa vivere anche con la mente confusa, ok? Sono già le 5, mezz'ora. Che dire del disordine? Disordine. Il disordine si cura, buttando quello che non serve, e mantenendolo una volta fatto. Io, per esempio, ho avuto mia figlia, giorni fa, che avevo bisogno di un restyling del suo armadio, ma ha chiamata, e abbiamo fatto un bel lavoro in 4 ore, e ha buttato due sacchi neri. Dopodiché le ho detto, regola d'oro, cara ragazza, rimettere a posto ogni cosa che tu prendi in mano. Significa che nella tua stanza, o nella tua casa, ogni cosa che è dentro quella stanza, o dentro quella casa, deve avere un suo posto. Se non ha un posto, è perché non si sa che farsene. Quindi buttala via, falla sparire. Se invece ci tieni, deve avere un suo posto, un posto non eccessivamente visibile, a meno che non si tratti di un libro nella libreria, o di un soprammobile sulla libreria, ok? Ogni cosa che tu prendi, qualsiasi utilizzo tu debba farne, una volta che ha fatto il suo dovere, la devi rimettere dove l'hai presa, altrimenti è disordine, e ci vuole pochissimo perché la disordine. Quindi è ammesso, è ammessa la possibilità di lasciare in mezzo un capo, un oggetto, la mattina perché vai di corsa, ma per favore la sera ti riprometti di fare il giro della casa e rimettere tutto quello che hai lasciato in giro al proprio posto. Se questo lo farai ogni giorno, il disordine non esisterà più. È molto, molto semplice. Si può diventare organizzati essendo disorganizzati cronici? Sì, così come ti ho detto io. Se la tua disorganizzazione abbraccia anche il campo del schermo del computer o della tua agenda o della tua vita in generale, prenditi un coach che in tre mesi vedrai che ti fa tutto quanto per bene. Ecco, la domanda capita a Fagiuolo. Che si deve fare per averti come coach? Basta contattarmi, facciamo 15 minuti di sessione gratuita al telefono e cerca di capire insieme a me se realmente hai bisogno di questo percorso se ci accordiamo sulle modalità, i costi, eccetera. Che ne pensi del covid? Che ne penso del covid? L'ho detto in un abbondante video di circa 35 minuti che potete trovare sul mio canale YouTube. Quindi non ci perdo altro tempo ora. Ti sposerai con Luciano? Ma sta domanda è gettonatissima, ragazze! Ma io non lo so. Allora, non vi rispondo ovviamente, vi posso solo dire che io sarei al secondo matrimonio. La domanda che nasce spontanea è cos'è che non hai capito del primo? Luciano sarebbe al terzo matrimonio perché ha già due matrimoni alle spalle per cui insomma tutta questa collezione di ex moglie ed ex mariti non è che ci fa onore come dire. Quindi il matrimonio, che pensiamo ne del matrimonio? Non gli attribuisco più nessun valore religioso, non ho questa necessità di legarmi a vita ad un'altra persona premesso che poi posso amare questa persona infinitamente ma non mi aggiunge nulla perché per me il legame oggi come oggi con una persona è l'amore stesso. Avendo constatato che l'amore nella vita può finire perché succedono cose senza entrarle nello specifico il matrimonio dalla mia visione e anche dalla sua perché ne parliamo di queste cose lo riteniamo non necessario ok? Però, però, però ci sono due motivazioni per cui secondo noi è importante contrarre il matrimonio con una persona la prima situazione è una situazione puramente legale economica ovviamente quindi ci sono delle situazioni per le quali è necessario prendersi cura dell'altra persona e parlo specularmente non faccio maschilismo in questa cosa nel femminismo per cui potrebbe essere utile e anche consigliato contrarre il matrimonio l'altro motivo per cui si potrebbe pensare al matrimonio è chiaramente il discorso sanitario cioè quando all'altro congiunto che amiamo succede qualcosa non essendo moglie o marito non hai voce in capitolo e questa è una cosa a nostro dire molto molto pericolosa e brutta perché l'uno dell'altra io e Luciano conosciamo molto bene quali sono i nostri desideri in materia di trattamento di fine vita e cose simili abbiamo più o meno la stessa visione e questa dovrebbe essere tutelata secondo noi per cui non è escluso che si possa eventualmente pensare al matrimonio per cui la risposta in questo momento è boh non lo so va bene quindi questa è la nostra risposta in questo momento poi metodi barra esercizi per non ricadere nello shopping compulsivo sì ci si può ricadere è vero cara amica hai ragione quali sono i metodi allora innanzitutto più che il metodo per non ricadere direi di osservare la radice da cui è nata la necessità di fare shopping compulsivo come tutte le compulsioni che sia shopping che sia binge eating cioè mangiare in continuazione che sia non lo so quale compulsioni conoscete le droghe ok bisogna andare a vedere il motivo per cui ci sei caduta normalmente questo genere di compulsioni parlano di bisogni inespressi o di bisogni insoddisfatti quindi può essere bisogno d'amore bisogno d'affetto normalmente è questo il bisogno guardati dentro fai una lista di bisogni concreti che tu hai cioè non il bisogno mi serve fumare dopo la sigaretta quelle sono a sue fazioni non il bisogno ecco di comprare quelle sono compulsioni parliamo di bisogni veri cos'è che ti tiene in piedi che ti dà energia cos'è che quando la pratichi ricarica le tue batterie quello è il tuo bisogno è fare l'amore è avere le coccole è pomiciare col tuo gatto è andare in libreria e passarci due ore è andare a teatro una volta a settimana altrimenti non sai più chi sei non sta in piedi quelli sono i tuoi bisogni coltivali trova il tempo per coltivarli se qualcosa o qualcuno ti ha tolto del tempo e tu non riesci più a gestire i tuoi bisogni è probabile che ti andrai a consolare con lo shopping o con il cibo o con altro attenzione perché questo ti porterà in una spirale ti trascinerà in un gorgo veramente di solitudine di sofferenze di grandissimi sensi di colpa arriverà un momento in cui non ti riconoscerai più quindi se hai se ti risuona quello che ti sto dicendo mi raccomando prendi i provvedimenti inizia a riprenderti in mano la vita se da sola non ci riesci coach counselor psicoterapeuta e non dico altro lavori ancora dal tuo compagno allora io non lavoro dal mio compagno io lavoro col mio compagno e lavoravo col mio compagno nel momento in cui è stato necessario che ci lavorassi cioè sotto covid quando il suo personale non poteva andare al lavoro quando ovviamente l'economia è tracollata e quindi non c'era la possibilità di fare chissà che cosa abbiamo deciso insieme di collaborare e risollevare determinate cose fatto salvo che la cosa ha funzionato mi sono riappropriata del mio tempo perché ho il mio lavoro oltretutto in mezzo c'è stata la morte di papà quindi ho dovuto anche iniziare a fare un sacco di cose quindi non lavoro dal mio compagno perché ha personale che può tranquillamente fare quello che facevo prima quindi ha una segretaria ha delle persone che lavorano per lui lavoro col mio compagno nel senso che sono con lui titolare come dice lui briosamente se è la principala per cui lo aiuto sicuramente nella gestione lo aiuto nella come dire nel gestire le modalità di varie cose pagamenti acquisti insomma cose del genere lavoriamo insieme in questo senso però per quello che riguarda il mio tempo dentro l'officina o nell'ufficio dell'officina molto poco perché ho il mio lavoro che grazie al cielo sta andando molto bene ultimi libri comprati ultimi libri comprati li ho preparati per colletto la domanda sono questi due che ho acquistato proprio ieri al mercatino dell'usato perché sono andata a portare una busta di miei libri usati allora Krishnamurti liberarsi dai condizionamenti ok il pensiero è il più grande ostacolo all'amore le riflessioni del grande pensatore indiano maestro di spiritualità del novecento in cui si fondono la saggezza orientale e il senso critico occidentale un aiuto per trovare la strada della consapevolezza uscire dalle prigioni di convenzioni e luoghi comuni che quotidianamente costruiamo intorno a noi stessi poi di Wayne Dyer Wayne Dyer che sarebbe il quinto libro che possiedo di questo bravissimo psicoterapeuta la saggezza del Tao come cambiare modo di pensare per vivere meglio la saggezza del Tao cambierà radicalmente il vostro modo di vivere di vedere la vita e come risultato imparerete a vivere in un mondo nuovo in armonia con la natura scrivere questo libro ha cambiato per sempre anche me ora vivo in accordo con il mondo naturale e provo un senso di pace immenso mai sperimentato prima sono estremamente orgoglioso di presentare questa interpretazione del Tao Te Ching e di potervi offrire le stesse chance di cambiamento che il Tao ha concesso a me e detto da uno psicoterapeuta ci piace molto ci vai ancora in chiesa? questa è l'ultima domanda no non ci vado in chiesa non ho nessuna necessità di andare in chiesa ovviamente in gran parte perché è cambiato il mio modo di vivere Dio e di interpretare Dio nella mia vita all'interno della mia vita è cambiato ovviamente anche il modo di tutto quanto quello che diciamo come dire agghinda la figura di Dio quindi la chiesa quindi le chiese in generale devo dire che a distanza di tempo in cui ho smesso di andare in chiesa ho riprospettivizzato una marea di cose ho anche fatto riflessioni molto come dire profonde sul che fine avranno fatto quei famosi fratelli che si strappavano i capelli quando ero incinta di mio figlio piangendo con noi pregando per noi nel momento in cui puoi uscire da determinati contesti ha significato non sentire più nessuno che ti chieda come sta tuo figlio per cui se la vita di John era importante solo nel momento in cui noi con il nostro bollino Cichita facevamo parte di un club meno male che non frequento più la chiesa mi verrebbe da dire e che altro persone veramente sparite cioè sparite completamente e poi persone che pur essendosi impegnate a non sparire sono sparite dopo la separazione del mio marito insomma viva la fratellanza viva l'amore viva la vi ok quindi no in chiesa non ci vado e sto benissimo come sto allora adesso io mi vado a vedere quello che voi mi avete scritto cominciando dai saluti siamo in 55 e vi ringrazio per essere qui con me qui ci sono i vari saluti ciao ragazzi a tutte una ciascuna c'è pure Luciano c'era perlomeno prima andiamo avanti ciao Sabrina per il make up come ti regoli io di make up ah è vero non ho parlato di make up allora come mi regolo ve lo dico subito fondotinta come si chiama correttore e parlo di prodotti che non colleziono ragazze quindi quando sto affinando il fondotinta vado a comprarne un altro se mi rimane residuo di fondotinta scuro che ho usato d'estate come sto facendo ora lo mischio con uno molto chiaro ok quindi si mescolano e si finisce di utilizzare non amo riempire il cassetto di roba ovviamente ho tantissimi rossetti che ho utilizzato negli anni perché i rossetti non muoiono mai ce n'ho ancora tantissimi però pian pianino sto eliminando e compro prevalentemente MAC Kiko e qualcosa di NYX e basta matita occhi nera o blu o verde ce n'ho solo tre mascara è sempre uno solo blush ne possiedo circa quattro quindi un bordeaux un aranciato un mattone e un rosa matite labbra ovviamente la bide rossetti quindi al momento ne ho diverse cos'altro ombretti ho due tre palette che insieme vanno a coprire più o meno l'intera gamma dei colori che io utilizzo che sono sempre più o meno gli stessi quindi mattone i crigi neri qualcosa di blu e basta vado avanti vado avanti cosa oh c'è Velio Baldassarre ciao Velio allora cosa ti concedi ogni tanto come premio ah sicuramente un piccolo shopping che può essere un libro può essere una candela profumata può essere una maglietta perché non è che non compro più assolutamente niente io se trovo la maglia a 9,90 se devo farmi un premio me la compro chi se ne importa insomma cioè non muoio per queste cose però non faccio più quello che facevo una volta che praticamente ogni giorno uscivo e non tornavo se non ho speso almeno 30 euro in giro capito andiamo avanti andiamo avanti come ti sei avvicinata al minimalismo mi ci sono avvicinata un po' per disgusto perché avevo capito oramai la ruotina del criceto come funzionava quindi uscivo spendevo tornavo a casa tutta epilettica piena di adrenalina magari ci sparavo pure un video dopodiché tutti i miei guadagni con youtube o le mancette magari di mia madre quando arrivavo a un compleanno o qualsiasi altra cosa me le andavo a spendere per i vestiti era una giostrina mi ritrovavo piena di cose e sempre più scontenta quando ho iniziato ad ascoltarmi e a capire che il mio bisogno verteva su altro è stato molto naturale arrivare a decidere di non spendere più e di impiegare come premio quei soldini in qualcosa che mi desse più sicurezza più amore più benessere personale ho scelto di focalizzarmi sullo studio quindi ho scelto anche di smettere di riversare i miei bisogni sulla religione sull'acquisto compulsivo su magari i comportamenti che non mi facevano sentire fiera di me stessa ho capito qual era diciamo l'insoddisfazione profonda della mia vita ho capito che stavo facendo stavo vivendo la vita di un'altra persona e ho preso delle decisioni importanti quindi ci sono voluti circa tre anni e in questi tre anni ho chiuso la mia associazione ho separato il mio matrimonio ho iniziato a studiare mi sono titolata e sto facendo il lavoro dei miei sogni e ho una relazione soddisfacente quindi diciamo che questo è quello che mi ha portato ad avvicinarmi al minimalismo quando riempi la tua vita delle cose che per te hanno un valore e che sono importanti e ti senti contenta non hai bisogno di acquistare diventi minimalista per forza ok vado avanti Lilaz cioè Luciano che mi fa le domande antisgamo che ti vedono tutti come fai ad andare d'accordo col tuo compagno che è un collezionista tu che sei minimalista allora il mio compagno ha un grande pregio c'è il 15% di batteria se si spegne mi uccido ha un grandissimo pregio che colleziona cose che a me piacciono cioè libri fumetti i personaggi della Marvel non mi creano fastidio per il semplice fatto che lui non è un accumulatore come dire cialtrone di quelli che buttano lì che fanno disordine polvere no è una persona che ama esibire le sue collezioni in un modo veramente bello ordinato gradevole è una persona che si prende cura delle sue collezioni quindi le tiene in ordine quando deve spolverare i suoi pupazzini lo fa da solo si mette sul terrazzo col pennellino fa piacere vederlo mi sembra mio padre quando puliva i fucili vi dico la verità i suoi libri sono ben riposti in una bellissima libreria senza grandi impicci davanti quindi quando io devo spolverare non mi crea nessun problema amo tutto ciò di cui si circonda semplicemente perché piace anche a me cioè i libri mi piacciono i film la sua cineteca dico bene non vorrei dire cialtronerie è molto bella da vedere è un piacere per gli occhi e vedendo questi film che sono veri capolavori ho imparato anche ad amarli di più anch'io quindi lui ha la sua parte di casa dove si esprime io ho la mia che è questa e che è anche in camera da letto la parte della mia libreria quindi anche il mio armadio quindi insomma non mi dà nessun fastidio c'è un profondo rispetto abbiamo unito due vite diverse la vita di una persona spirituale e di una persona atea la vita di una persona che proveniva dalla destra e la vita di uno di sinistra la vita di uno che colleziona la vita di una che è minimalista per cui non ci diamo nessun fastidio va benissimo così vai a fare domande criminali tu ma io non lo so stiri poco o tanto io odio stirare io odio stirare stiro poco per questo motivo quindi piego il più possibile purtroppo al momento sono abbastanza ingolfata quindi non ho a darmi da fare stiro ogni tanto avere diverse cose mi permette di aspettare ma è giunto il momento poi vado avanti da quanto si vede le pareti della tua casa sono piene di quadri o sbaglio? sono piene di diplomi tesoro questi sono tutti i diplomi e titoli di studio che ho collezionato e che fieramente mostro ok? poi ci sono dei quadri che appartengono al mio compagno e sono bellissimi c'è anche un guttuso vero e ci sono due o tre quadretti molto belli che sono ricordi suoi della sua famiglia e ci tiene ad esporli e io ci tengo che lui le esponga questo quadro è uno che mi porto dietro da tutte le case che ho avuto e per me è un ricordo molto bello fa parte del mio passato e me lo tengo poi non segui il minimalismo neanche per l'arredamento anche per l'arredamento no tesoro non lo seguo perché chiaramente siamo in due non sono sola e c'è anche nostro figlio che vive con noi per cui siamo tre persone in una casa non grandissima circa 75 metri quadri e chiaramente quando la casa si riempie di figli perché abbiamo cinque figli che ogni due settimane stazionano con noi no minimalismo nell'arredamento non posso anche perché diverse cose le ho portate io diverse le ha portate lui diverse le hanno già qui perché la casa è parzialmente arredata quindi non si può essere minimalisti più di tanto Sabri facci una diretta alla settimana eh amore guarda non ce la faccio sai Sabrina se hai Netflix guardati Becoming volentieri farete una diretta insieme tu e Luciano ne dubito fortemente perché Luciano non ama molto le telecamere quindi no anche se penso che lui sarebbe un elemento molto prezioso eh perché ha dei punti di vista molto interessanti su tantissime cose per cui potrebbe essere per voi una una fonte di come dire di riflessione ecco allora ragazze mancano sette minuti Facebook si Facebook Instagram mi chiude la diretta io non è che abbia chissà che altro da dire per cui se non avete altre domande direi di salutarci se ne avete sbrigatevi a scrivere perché eh voglio capire insomma se ci sono altre cose non so se Luciano è ancora in linea se vuole scrivere qualcosa per le ragazze se no non fa nulla vedo che non ci sono altre sì ci sono no non ci sono mia Salvini dice grazie grazie a te tesoro ma grazie a tutte voi vedo se è arrivato qualcosa nell'ultimo minuto ci credo poco vediamo se riesco ad aprire Instagram anche da questo telefono sì non vedo nulla ragazze no non c'è niente quindi vi saluterei grazie a voi per essere state con me come vi ho detto cercherò di salvare questa diretta speriamo di riuscirci l'altra volta l'ho dato buca praticamente dopodiché la edito e la monto su YouTube ok grazie a tutte voi ecco Luciano che arriva grazie Luciano per aver fatto le tue domande grazie sono molto gentile le ragazze chiedono di te decidi tu come fare come hai affrontato la separazione mi sembra una domanda molto personale e anche molto dell'ultimo minuto quindi diciamo che lasciamo cadere questa domanda ti ringrazio comunque per averla fatta ciao ragazzi un bacio a voi ciao a tutte sbrigati a tornare a casa tu ciao 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 Grazie a tutti.